Per i bagnini è ancora presto per poter tirare le righe in spiaggia per appiantare i supporti degli ombrelloni. Il protocollo sicurezza approvato dalla giunta Ceriscioli di ieri contenente misure e distanze deve ancora ricevere il sugello del Premier Conte. Era atteso per la serata di ieri ma è slittato ancora alle prossime ore. E quindi questa mattina ombrelloni parcheggiati nei depositi dei concessionari che attendono anche altre direttive per poter pianificare la loro attività estiva. Diciamo che per loro, volendo restare in tema nautico, la nebbia non si è ancora diradata del tutto ed altri pensieri affollano le loro menti oltre a quelli sulla direzione dei lavori. Diciamo che le misure, almeno per quanto riguarda le misure fra ombrelloni, possiamo essere soddisfatti vista la situazione e quindi comunque provare di salvare questa stagione. Ovviamente comunque con queste misure abbiamo intorno a un 40 abbondante per cento in meno di lavoro perché saranno 40 per cento in meno di ombrelloni rispetto al 4 metri e mezzo per 5 che era all'inizio. Cioè questo è una gran vittoria sempre sperando che comunque questa bozza regionale che era stata fatta dai bagnini dalla nostra associazione bagnini che è stata approvata alla regione venga poi comunque definitivamente approvata anche dal governo perché stiamo aspettando questo adesso. Sulle regolamentazioni del bar, noi rimaniamo sempre come il discorso dei bar per cui ancora molte cose ci devono far sapere. Bisognerà vedere in quale maniera, cioè le distanze dei tavoli, le distanze fra le persone, fra le sedie, i passaggi e so che in regione hanno studiato anche il servizio all'ombrellone per cui tutto è valutabile a seconda di quello che ci diranno che possiamo fare. Ad esempio adesso abbiamo un grosso problema con il discorso dei gruppi perché anche i gruppi per quanto è ovvio che in un ombrellone più di un top persone ci possano stare ma sai i gruppi si organizzavano sempre almeno in sei, in sette, poi ovviamente si gestivano l'ombrellone e adesso tra il discorso sanificazione eccetera è un po' più complicato quindi comunque anche su questo stiamo cercando di prendere dei rimedi che possano consentire anche a non dico numerosissime perché gli assembramenti ormai non si possono più fare però anche ai piccoli gruppi di organizzarsi per venire al mare magari anche dando a loro la possibilità di gestire il massimale di persone che ci siano sotto l'ombrellone. Comunque vada possiamo dire che sarà un successo chi potrà permetterselo 10,5 metri quadrati di spiaggia a disposizione ce l'avrà anche se con tutte le misure e precauzioni possibili ma che stagione sarà quale sarà il clima, l'atmosfera che si vivrà sulle nostre spiagge in tutta Italia solito clima festaiolo o le limitazioni taglieranno le ali alla voglia di svago lo sapremo solo vivendo ma che sarà una stagione anomala questo è fuori di dubbio. Cercheremo di essere il più efficienti possibile credo che anche gli altri colleghi insomma pensino a questo però sarà comunque una stagione difficile abbiamo bisogno della collaborazione anche della gente perché comunque per il distanziamento queste cose qui ognuno deve fare la sua parte noi ci attiveremo per quanto riguarda i nostri compiti però anche la gente che viene deve rispettare le regole perché altrimenti è tutto tempo perso e speriamo insomma di riuscire a passare questa stagione e che la cosa finisca il prima possibile in modo di ritornare tutti alla normalità e poterci godere tutto senza tutte queste regole e quant'altro.